Monti, che soccorre il suo ministro in lacrime durante la conferenza stampa di presentazione della nuova manovra, ricorda Federico Fellini in una situazione molto simile. Ricevendo l'Oscar alla carriera nel 1993, sul palco della grande sala della Notte delle Stelle, insieme con Marcello Mastroianni e Sofia Loren, il regista della Dolce Vita, mentre fa in un inglese maccheronico il discorsetto di circostanza, scopre in platea la moglie Giulietta Masina in lacrime. My wife, thank you, dear Giulietta, and please stop crying.